Questa sera di parole ne abbiate sentite tante e la reazione di tutti i cittadini è quella di voler vedere dei fatti. Ovviamente le campagne elettorali sono invertite rispetto a questo schema e oggi abbiamo 5 cittadini su 100 che dichiarano di avere fiducia nella politica. Io dico sempre che mi stupiscono più quei 5 dei 95 che non ci credono per quello che abbiamo visto. Noi abbiamo messo in campo le nostre proposte, alcune sono simili a quelle degli altri, altre sono diverse. Se abbiamo un'idea di ambizione per Ravenna più alta, abbiamo un'idea di Ravenna solidale, dovete guardarci negli occhi e capire se crediamo in quello che diciamo, se saremo coerenti con quello che faremo. Io dico una cosa, la nostra campagna se vedete, adesso abbiamo anche scherzato con Maurizio, senza insulti cerchiamo di evitare le polemiche, non perché non abbiamo grinta e non abbiamo forza le nostre idee, ma perché io penso che chiunque vinca le elezioni del giorno dopo deve essere il sindaco anche di chi non l'ha votato. E se inizia attaccandosi e insultandosi con i suoi avversari, poi non può essere il sindaco anche di chi non l'ha votato. Grazie.